Sono appena tornata dalla Lidl dove ho fatto un po' di spesuccia ecco qua ho già messo tutto sul tavolo pronto da mettere via mi sono fatta tirare dalla settimana asiatica ho preso un po' di roba asiatica che non so nemmeno bene come si cucini ma mio figlio ha detto che ci pensa lui allora abbiamo preso questi noodles ai gamberetti poi abbiamo preso degli yogurt questi qua che hanno dei gusti un po' particolari questo è dragon fruit e lime e questo qua invece è pineapple and ginger poi ho preso questi qui che sono dei noodles anche questi istantanei bisogna solo aggiungere l'acqua calda e dovrebbero già essere pronti poi abbiamo preso degli altri instant noodles questi qua con la salsa satai vediamo proviamo proviamo poi ho preso questi che invece erano quelli che mi somigliavano di più a della pasta occidentale questi sono da cuocere nell'acqua calda però non so bene come condirli come si condiscono questi? qua ci sono dei piselli dei piselli del pesce boh non so poi sempre per cineserie varie ho preso questo che è del riso bianco da mettere nella cocotta vicino poi era rimasto questo della settimana americana credo non lo so no questo è della settimana americana scusami questo qua che è vedi mckennedy ed è un porco pullet dovrebbe essere dell'arrosto da cucinare da fare al barbecue o fare al forno ma io lo farò al forno poi ho preso appunto 10 hamburger poi ho preso questa insalata qua questa insalata di di mare con verdure e olive che era già prossima alla scadenza quindi questa espressa espressa stasera la si mangia poi c'erano delle novità sulle pizze io di solito prendo le pizze italiane quelle con la confezione blu però c'era questa nuova pizza margherita integrale ho voluto provarla e ne abbiamo prese due così e poi questo qua che è il trio quella normale caprese, viustere patatine, salmone e gamberetti poi che ho preso? ho preso delle verdure suggelate gli spinaci questi qua con mozzarella e formaggio poi ho preso la verminestrone che è un classico bisogna sempre prenderlo questo ha pure i legumi ho preso questi cuori di carciofi perché mi rompe andare a comprare i carciofi pulirli, farli dirli vorrei farci una torta salata poi ho preso questo che è un classico per noi che è il filetto di merluzzo al forno alla baudelaise che è molto buono e poi altre cose insomma dell'insalata ah ho preso questo che non ho mai preso l'ho visto da una ragazza sono praticamente delle crepe già farcite con della crema al cioccolato e si mettono in forno qualche minuto anzi no, 8-10 secondi nel forno a microonde e sono pronte da mangiare e sono confezionate singolarmente così uno prende quella che vuole e bon poi ci sono dei giusti i peperoni il galvanino le banane questo qua lo devo proprio dire che l'ho già preso l'altra volta ed è veramente ottimo ho fatto questo risotto con i funghi porcini quello dell'altra volta va solo i funghi questo ah sì i porcini che gli champignon era venuto veramente buono perché erano rimasti belli al dente sia i funghi che il risotto poi un po' di affettato un po' di prosciutto un po' di affettato quello è arrosto e poi niente un po' di pasta piccola per fare minestre e minestrire adesso che siamo in inverno ci va anche questi con un bel minestrone a pezzi e poi i detersivi ho solo preso questa l'anatra vc questa qui alla lavanda è un deodorante di questi borotalco e basta insomma comunque qua ci sono 80 euro tutto apposta ok ho preso anche questo che è dell'olio di semi che non ne avevo più comunque ci siamo fatti tirare da questa settimana asiatica vediamo stasera proviamo già qualcosa a Grazie.